Mostre, video, pubblicità e giacconto alla rovescia a Lecce dove il 28 giugno si celebrerà una delle tappe dell'Onda Pride, il pluri appuntamento che per celebrare il ventesimo anniversario del primo Gay Pride si snoderà per tutta la penisola per ricordare a tutti che sul tema dei diritti civili c'è ancora molto da fare. Dieci tappe tra cui per la prima volta anche il capoluogo barocco dove gli attivisti dello spazio sociale Ezei hanno già messo in moto la macchina organizzativa all'estendo nel circolo proiezioni di film e una mostra fotografica dedicata alla nascita del Gay Pride seguita ai moti di Stonewall del 28 giugno 1969 la rivolta della comunità omosessuale americana contro la polizia. Un appuntamento quello a Leccese che significa un'apertura della città verso una tematica fino a qualche tempo fa ancora tabù e che lancia ora un importante segnale riguardo la volontà di allinearsi alle altre realtà europee da parte di una città che aspira a diventare capitale europea della cultura 2019. Sono molto emozionati perché essendo la prima volta a Lecce c'è tanto lavoro da fare ed è sempre un'esperienza tutta nuova per noi e quindi diciamo che l'emozione c'è forte ma c'è anche tanta voglia di fare e attraverso tutti questi eventi stiamo cercando di sponsorizzare l'evento il più possibile in modo che ci sia quanta più accoglienza sia da parte della comunità totale che quanta più partecipazione possibile.